E bene gente, eccoci finalmente tornati su Life is Strange, mi sembra passato letteralmente un secolo dell'ultima volta che ho giocato a un titolo di questa serie. Mi scuso innanzitutto per il ritardo dell'uscita di questa serie, mi sono categoricamente rifiutato di prendere l'edizione deluxe per l'early access, in quanto è una politica che io detesto. E mi scuso anche tra l'altro di... cos'è questa cosa? Per non averlo fatto al day one che era il 29 ottobre, ma ero sfortunatamente, o fortunatamente per me a Lucca Comics e poi sono stato impegnato con la demo di Monster Hunter Wilds. Cinematografia che cosa significa questa cosa? Vabbè, teniamo tutto ad alto nel dubbio, ho una 4070 quindi penso che posso pompare tranquillamente al massimo. Allora, ho deciso di non guardare i trailer o i mini video aggiuntivi che vennero fuori sui personaggi, sul setting del gioco eccetera eccetera, per non avere spoiler di alcun tipo. Voglio andare in questa storia completamente blind, in quanto come ho menzionato nel mio... nella mia analisi di quello che ci hanno mostrato in passato, sono curioso ma cautamente ottimista. Spero che facciano qualcosa di abbastanza diverso dal primo Life is Strange, in quanto l'Incipit, come ho menzionato da molti, è molto simile a quello del primo, quindi io spero di rimanere sorpreso. Ok. Grazie a tutti. Ho notato che ci sono i closed caption, se danno fastidio interferendo con i... con i sottotitoli lì il disattivo naturalmente. Sono molto impressionato in positivo dalla grafica di... di questo Double Exposure. Abbiamo sempre avuto quello stile un po'... tipo plasticoso negli altri Life is Strange, che era, per carità, molto carino, in quanto aveva il suo charme. Ma mi piace molto anche questo stile. Se non c'è, non savi che non lo sai. Non so se non lo sai. Mi piace molto. Un po' molto facile. Come riusciamo a riusciremo? Non so se non lo so. Non so se non mi dispiace, lasciare un po' di guarda. Non è una cosa molto legale questa, Max, devo menzionare. Oh, sì. Easy peasy. Sì, è sicuro di questo? Positive. Una cosa che mi piace molto di più di questo stile rispetto a quello precedente è l'espressività. Non so se avete visto anche le microespressioni delle sopracciglia di Safi. Per un titolo che si basa sul dialogo, sulla storia, penso che l'espressività sia una cosa estremamente importante e quindi sono molto favorevole al cambiamento di stile che hanno scelto con questo gioco in particolare. Ah, c'è un topo morto, fra l'altro. Rip. Guarda per me. Vai! Ma non mi sembra poi tanto male. Come l'inferno. No. So glad you told me about this place. It's incredible. Eww. That's one word for it. I had a friend in undergrad who was obsessed with this building. She never broke in, though. She clearly wasn't as crazy as you. Urban exploration is kind of my thing. Non posso vedere un paio d'ultimo e semplicemente non andare in. Cosa c'è per gli spazi fatti? A me piace il concetto degli edifici che sono fatti per persone, ma quando sono vuoti. Tipo una scuola vuota. Molto inquietante. Non! Cosa? Non mi riempiono il spazio, se posso aiutarlo. Voglio che si vede come si vede, senza interferenza umana. Entendete? Chiudate? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Preparami un drink. Sì, avrò una vodka martini. Qualcun cocktail che ti faccio qui sarà completamente spazi. Sì, avevo parlato di questa cosa che puoi fare alle foto. È una meccanica che mi incuriosisce molto per raggiungere un po' di flavor al gameplay. E purtroppo sono un pessimo come fotografo, quindi Max dovrai perdonarmi per tutte le foto orribili che farò. Qualcosa di solidario, ok. Qualcosa di solidario, ok. Qualcosa di solidario, ok. Questa cosa rovinerà l'immersione, perché io sono un fotografo pessimo e Max deve essere una fotografa esperta. Un muro abbuffito, Safi. Non mi pare il massimo. Quella cosa laggiù, tipo. Sì, è vero, posso vederlo. No, dai, non insultiamo. Sì, è un giubbotto di Safi. Ci sta. Beh, lo compro. Ma sono qui a una fotografia di residenza, quindi... Cosa dobbiamo sapere? Spettare la mia thesis a Moses per ottenere la perspectiva fisica. Lo humor di Max mi sembra abbastanza simile. Spero che... No, posso fare di meglio. Spero che rimanga invariato, perché era uno dei punti forti del personaggio a mio avviso. Safi, tieni ferma quella torcia, maledizione. Sto cercando di... Incredibile. Questo è il mio capolavoro. Vieni qua, Safi, devo parlare. Aspetti di scappare. Come l'ho detto? Niente. Sì, sì, mi piace molto il design aggiornato di Max. Io vorrei incontrare gli artisti. Especialmente se questo sia un portretto. Interessante, interessante. Voglio andare a vedere quella cosa rossa lì giù, non capisco cosa sia. Sembra tipo qualcosa coperto da un telo. Fra l'altro è estremamente surreale sentire di nuovo la voce di Annapel nei panni di Max. È una cosa che onestamente non pensavo avrei mai sentito nuovamente. Dobbiamo fare una foto alla sala da bowling. Oh, Satan. Hmm. Edgy. Ready to pledge yourself to the Prince of Lies? Rewind hasn't worked in years. But still... Old habits die hard. You never know what's out there. Shit worse than goat heads, at least. Don't hear me argue. Non ho visto la mia famiglia di shit che non può essere spiegato. Ah, Safi. Se solo sapessi con chi hai a che fare. God, non ho mai stato a bowling since I was little. John Whittle's 9th birthday, ricordo. Weird kid. Allora il fatto che io sto parlando di cose completamente diverse e Safi mi sta raccontando la festa di compleanno di qualcuno che non conosco. è sicuro Max che non puoi fare la foto a quella... ok. L'esperta sei tu, d'altronde. Wow. Si sembra molto più fresco da quello che ha fatto in linea. Ci sono altre foto? Sì. L'ultimo sito è ancora qui. Mi chiedo chi sta pagando il posto. C'è qualcuno che amica Kitsch... ... e dust. Un dominio gratuito, forse. Infatti è molto strano se questo posto fosse stato chiuso da dieci anni e che abbiano ancora un sito. Max dovrei accontentarti di questo scatto. Fattelo piacere. Hai capito che il tuo focus sarà ancora? Non ancora. Ma lo saprò quando lo vedo. Mi sembra tipo carta avelina o sono io che sono pazzo? ... Dovrebbe essere neve questa, immagino. Dalle parti dove vivo io c'è molto poca neve, quindi non sono... ... Sì, è decisamente neve. Pfff. Prendi delle nuove stelle nuove stelle di lit. Sì, sicuramente. Proprio. Nuo e inoffensive. Ok, sì, sì, c'è un po' della vecchia Max dentro questa versione. La cosa mi fa molto piacere. ... ... ... ... ... ... Ha ha! Te lo dicevo io, Max. Ok, non è carta velina. In effetti. Oh, d***a! E' tutto, eh? Hm? Il centro che hai chiesto? Certo? Il più lontano qui, o quale. È stato creato per essere bello. E ora nessuno non lo guarda mai. Sì, fino a oggi! Che cosa così. Non in amore con questo angolo, però. Contro luce, forse, è possibile? Molto carina la musica, è molto più, non lo so, un qualcosa di solitario, sì, come vibe. Non ho mai giocato qualcosa di più di 180, oh, oh, no, 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 ho giocato a bowling solo una volta e non è stata una bella, un'ottima performance, devo essere onesto. Mi money's on, one half full Bic lighter to win it all. Oh man, I'm nine years late for my free slice of ZA. Concordo. Concordo. La cosa delle scarpe mi sapeva di un anti-igienico. Un giorno, ho spero di avere così molte scopi. Per sale, bowling scopi. Extremamente worn. Scopi? Are scopi lonely? Super lonely. Sans feet. , yeah, iei. Iei, ioi iei. 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 Oh my god. Oh my god. This year's Caledon University artist in residence sent my mom foot pics? Oh mio Dio Sicuro C'è una foto di un closet messo in una casa condennata Alguien ha lasciato i piedi sulle loro La tua mamma lo amava Hypocritical di lei considerando che non l'ha mai piaciuto quando il mio closet era messo Max deve diventare uno fotografa di spazi liminali A parte che questo penso che possa contare come Come spazio liminale E' un po' troppo forse trasandato Non lo so Ripeto, non sono un esperto di fotografie No, grazie, valido i miei occhi Mmm... Ah sì, c'è un V nelle scale Effettivamente allora sì La pizza gratis Oh mio Dio Proprio... Questa settimana che sono stato a Luca Comics c'erano le persone con i... Ancora nel 2024 con i free hugs E' una cosa che mi da... Non lo so Non mi... Non mi piace Is this seizing the means of production? Max... Puoi fare di meglio No way I'm leaving here without a photo of that mobile Sì, tranquilla Max Ci stiamo... ci stiamo arrivando Voglio esplorare tutto prima Un pochino sì, è vero Un pochino sì, è vero Ehm... sì, esattamente Non è come se nessuno va a perdere Non potresti prendere qualcosa che non si tratta Le pezzi dei figli orfani? Beh... Non importa È troppo grande Per uscire solo i due di noi Sì, stavo per dire Soprattutto qualcosa che non sia tipo Alto 3 metri E pesi... Tipo 100 kg Questo mi sembra meno sicuro però Esattamente Pfff Pfff Max, sei sempre stata goffa Questa è la volta buona che ti ammazzi È un pochino delle ovibali Un' alimentazione Questa è un pochino aci Questo sarebbe tipo un tatuaggio interessante per... per qualcuno tipo Chloe. Bax, non capisco il tuo humor a volte. Show me your love! Andiamo, Max. È tempo. Penso che questo è il giro giro. I gnomi a freddo, veramente, prendono il giro insieme. Ti piacerebbe l'Italia, Max? Ci sono i nani armati di ascia qui. Non so se ricordate quel dannato episodio di mistero. Ehi, ce n'è una più miniaturizzata, Max. Vero, vero. Mmm, mi ricorda quasi qualcuno, Max. Mannaggia. Ho molte domande su questa cosa. Ma non le farò. Sì, questo è l'angelo che ho bisogno. Metto tipo qui un po' di lato, però. Mio Dio, Max. Stai attenta, per favore. Grand'angolo oppure più ritratto? Sono un fan del... A parte che non sono mai stato grande amante della fotografia di posti tipo questo. A me piacciono molto lì i ritratti e le... Le landscape della natura. E' sorribile. Proviamo un pochino meglio. Oddio, ci sto provando con tutte le mie forze a centrare la... Se usassi il mouse... Di nuovo, Max. Te lo farei piacere. Wow! Oh! L'A.Service, anche? Questo posto è bambino. Per favore, ricordate di tipare il tuo passaggio. Stai attività. Avete fatto il tuo gioco? E siamo fuori dalla terra! Avete visto? Safi ha avuto l'idea migliore. Invece di arrampicarsi su un... Su un mobile ammuffito. Non so quanto sei perfetto. Oh! Showmi l'angelo! Gesù, togli... Toglietemi! Che miseria! Max ha un po' troppi faccia a faccia con la morte per i miei gusti. Oh! 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 Sì, sei ok? Ho bisogno di un minuto. Hai bisogno di un minuto? Ho scoperto la mia mente. Turtel? Turtel. Turtel? Non so cosa sia. So solo l'animale. I miei poteri... potrebbero non durare. È ok. Siamo. Chloe! Sì! Maa. Maa. Si morta? Oh sì... Mi... Non... Non morta. È proprio pensato. Cosmopolitan for Max Vodka shot for Safi Very on brand in both cases Perfect Thanks a ton Amanda Hey You look really good today Uh Nuova wife Max 0 Ritz Confermato I've got a darkroom all nighter In my immediate future That protestant work ethic is a killer Uh Zero Ritz Max Max è peggio di un uomo Quando si tratta di cogliere Cogliere segnali dalle ragazze Ok Hold the phone I know when someone is flirt It just takes me well to decide If I want to flirt back Did you go to multi-year cross country road trip Did you get late even once Safi Is this about the blue haired girl Whose picture you keep in your wallet Wait You snooped in my wallet Stop deflecting The girl with the blue hair What's the deal with you two Do you see? Parlami un po' di perché Del perché avevi il mio portafoglio Safi Non te la svingerei così facilmente Te lo dico io Era la mia fidanzatina delle superiori Nonostante non lo fosse Non lo fosse neanche per poco Cioè tipo Lo è stato forse per Per 30 secondi prima di morire Look We were Kind of High school sweethearts Okay High school breakup Turned you to Miss Havisham? It was a little more complicated than Can we change the subject now? No Come on You never talk about yourself Would it kill you to open up the teeny Tiniest bit? What happened? Come ci siamo lasciate? Questa è l'opzione Se Sacrifica Arcadia Bay Sembra un po' Vabbè Capisco che è perché Non posso inserire Cloyne In questo sequel Però mi sembra un po' Dare solo due opzioni Mi sembra un po' strano Però vabbè Immagino che ci possa stare Data l'esperienza traumatica Che hanno vissuto insieme Soprattutto il fatto di sacrificare Un'intera città Penso che Che metta molto stress Su una relazione Però non so La La scelta mi lascia un po' Mi fa un po' strano Ma nel mio caso Per me il Il mio finale canonico Il primo che ho ottenuto È stato questo Preferibilmente La scelta Cos'è la metà di Lakeport. E' un po' di più. La metà di Lakeport non ha quello che hai. Una soffie. Posso aiutarti a navigare le complicate le vetture di amore. Il primo passo è parlare con lui. Cosa? Cosa parlano di normali? Cosa parla di gas. Ma stiamo spettando un po' più alto. Preciso. Calma Max. Non ti strozzare. Cosa parla di normali? Alla cosa devo fare è trovare delle cose che amanda piace e poi parlare di loro. Posso farlo. Piuttosto Safi parlava come se ci dovesse fare da wing woman e invece ci fa da supporto morale praticamente. Safi è troppo accettata per la mia vita sociale. Perché parli con me? Parli con lei! Ok, ok! Pfff! Lo sapevi che i prezzi della benzina sono aumentati di tipo 50 centesimi negli ultimi cinque anni? Come si fa fare il bartending? Come si fa fare il bartending si sembra così facile. Esperienza Max, immagino. Non sono pronto per una conversazione completamente in pieno. Dobbiamo scoprire i suoi interessi. Buona birra. Buona etica. Che altro potete chiedere? Ah ok, il Tartle è il locale. Ok, SnappingTartle. Proprietà dei suoi membri gestito democraticamente da un comitato eletto. Lo SnappingTartle crede nella birra, nell'arte, nella sostenibilità e nelle pratiche di lavoro equi. Non è necessario essere un membro proprietario dello SnappingTartle per soffrire di quello che offriamo, ma sopportarci significa anche sopportare l'arte e uno stile di vita giusto ed equo. Molto bene, molto bene. Questo sì che è un bel posto. Ah, rip. Non fate caso a me, ragazzi. Sto solo passando. Questo è sicuramente l'esercizio. La macchina ha riposo. Sto cercando di capire cosa... sì, penso che sia sottosopra. Puoi andare a cercare un dissi nel bagno, Max? Non so quanto posso trovare. Esattamente nulla, come immaginavo. Amanda recommends Misery Cult, eh? Posso lavorare con questo. Il personale dello SnappingTartle consiglia l'ultima stagione di Demon Whisperer. Sedi, maestra birraia. Il nostro panino, la mela verde e formaggio grigliato. Teddy, cuoco. Approvo. L'album omonimo del 1999 dei Misery Cult. Amanda Baressa. Misery Cult. Bestie ancora più selvagge del professor Lucas Colmenero. Iana, membro proprietario. Ok, sembra tipo un... Album del 1999, tipo un... Tipo un gruppo nu metal... Fine anni novanta. Ah, sei persone, sì. Io vengo da una famiglia di cinque persone, quindi sei non è neanche... Tutta questa grande cosa per me. Sì, te stessa, Max. Be yourself. Oh, man. Voglio arrivare sulla piazza del pick-up line. Ricordo se qualcuno qui conosce alcuni buoni che potrei prendere. La frase primorchiare peggiore di questa settimana. Per caso ti serve un trapianto perché mi piacerebbe donarti il mio cuore. Ah, l'ho tradotta davvero male. Se fossi delle parole su una pagina saresti una scritta in bella evidenza. Devi essere una banca perché è il mio interesse. E devo mettermi in coda per parlarti. Eh, non rendono bene tradotto in italiano. Per chi conosce l'inglese probabilmente... Queste sono intraducibili naturalmente. La peggiore di tutte è, secondo me... Eh, la prima. Assolutamente. Ah, guarda, di frasi brutte, Max. Ce ne sono tante. Safi dice che le band che giocano qui sono piccole, ma... Ho sentito tante strane, ma non penso che sia il caso che le ripeto. Tipo i classici meme da social media. Grandissimo. Grandissimo. Arco da barista per Max. Incredibile. Character development. Adesso. Adesso. Adesso ci riuscireste anche tu, Max. Avete da consigliarmi qualche frase per rimorchiare? Cringe. Cringe. Concordo con la ragazza. Un classico, non l'ho mai sentito. Ok, sì, questo è decisamente Max. Sì Sì Non capirò davvero mai il funzionamento delle università americane, delle scuole americane in generale È letteralmente un concetto completamente alieno per me Penso che lo sia per chiunque al di fuori dall'America, in realtà È tornata dal bambino, magari ora avremo tempo per chiedere Oh, la mia bladera ti ringrazia Se le piacciamo Penso che potrebbe rispondere positivamente alla frase per rimorchiare, anche se è turbo cringe Ah, ok, come non potete, ok Pensavo io ne potessimo dire una Giustamente Ah, probabilmente se esploravamo di più ne avremmo potuto trovare trovare di più Sono curioso di sentire quest'altra Ah, questa è vecchia Ok, mi piace che possiamo chiedere anche delle altre cose No, Max, è una delle cose più più imbarazzanti e più stupide, secondo me, mentire sui tuoi interessi per fare colpo su qualcuno Letteralmente devi essere te stessa, Max È la cosa più facile che ci sia No, scusate, in realtà non avevo mai parlato di loro fino a che ho scelto il tuo rec sul whiteboard Oh, certo Non sei un locale di Lakeport, dà Quindi, educami Voglio sapere Misery Cult era la prima band di Lakeport per farlo grande Sì, hanno trovato la musica di Lakeport E inoltre, appunto, quando chiedi a qualcuno qualcosa sui propri interessi Tipo è una delle sensazioni più belle Tipo se qualcuno mi chiede qualcosa a me e dei miei interessi Istantaneamente mi piace molto di più subito la persona che mi chiede Sì, è una cosa che mi chiede La radio radio airplay è così vicino come New Hampshire, quindi sì, è abbastanza grande. Recomendere una biazza per qualcuno che non ha il gusto di biazza? Handlebar cider. È la cosa maxistica del tap. Come ti... È il mio lavoro di sapere i regolari. Sono l'all-seing eye di Lakeport, Vermont. Vortex Club 2.0. Punto di domanda. Oh, finalmente! Finalmente! Oh, sì! C'è questa banda, Revenge Horus, che ho dovuto guardare. Basito su questo nome solo, sono 100% in. Quindi, ehm... Oh, ehm... Voglio assicurare che i bambini si riusciano inizialmente. Eh, quindi... Zero pressione. Qualunque modo. Ma... È questa una cosa di dati o è una cosa di amici? È questa una cosa di amici o è una cosa di amici? Let's fucking go! Oh! Definitivamente... Pensando di una cosa di amici? Sei davvero amico. È una data, allora. Ah, è un appoggia-drink! Mi stavo chiedendo cosa fosse quel quadrato. È un appoggia-drink! Mi stavo chiedendo cosa fosse quel quadrato. Ehi! 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 Nonna! Ehi! Ehi, abbiamo salvato. Io ho percibito una medalata. Quindi, cosa stiamo facendo? Questa è buona, moltoamontate. Lasso di ricca in casa. Ho treo? Cosa di una meteo? Sono faticando la ricerca, ma può essere divertente con gli altri. Ti vedi. Poi, andiamo. Lo ho bisogno è... Ma seconda! Ehi! Ecco il nostro Moses. Nostro... Our boy. Si arriva in questo modo quando si è in un buon momento. Grazie a Madame Presidente. Mami amore. Almeno fino a che ricorda che ho avuto la carta. Chauvi? Devo essere un messo, non bevo alcol, quindi champagne, birre e cose varie non sono il mio forte. Dami la versione di Cliff Notes di quello che siamo in realtà qui per vedere. Un paio di piccoli piccoli di un astroidio scattato. Da 11 milioni di mele. Questo è quello che dico per presentarvi. Wow... Quindi dovremmo essere preoccupati di questo astroidio scattato la Terra? Non nella nostra vita. E probabilmente disinnovirà prima di arrivare alla superficie. Allora Max. Se hai 24 ore prima che il mondo finisce, cosa farei? Max, pensi in scala troppo ridotta. Dovresti fare qualcosa di folle. Non criminale, insomma. Sempre tenendo a mente le altre persone. Puoi immaginiare come bella un set di foto apocalipsis? Oh, mio Dio. Questo ancora? Nessuno lo verrebbe. Ti ho detto. L'arte necessita un pubblico. Inoltre, è solo... Ok, che... Un grande disaccordo. Un po' quieto qua qua, Murph. Non vuoi entrare? Oh, eh... Non ero ascoltata. Ma... Hey, sembra che l'acquipamento sta lavorando. Ma se non mi ha un gran coraggio comunque a stare con la giacca aperta e la capiscia aperta con solo la magliettina sotto. Oggi, inoltre, hai anche un attimo per convincere noi altrimenti... Un personale davvero bello. E hai chiesto di spendere tempo con noi. Oww. Duh... Oh, ho portato coppia! Ho pensato che sia meglio di passare la bomba Questo è il migliore che puoi fare? Non lavoro in questo edificio Non mi scordi per l'astronomia di dolore Il mio dice che sono la più orniglia del mondo Grazie un mug mug Turbo nonna, citazione, incredibile Devo andare con la tazza a forma di cabinetto Tu sai me? Io amo la mia potenza Questa azione avrà delle conseguenze Il fatto di aver scelto la... Il bicchiere a forma di tazza È grande, ma non posso dirti cosa è Non posso dirti noi che hai buone notizie E poi... Non voglio dire niente altrimenti tutto è finalizzato Mysterio Cosa che ci stiamo festeggiando Penso che si chiama per una selfie Oh, mi dimentiché Ho proprio questa camera E voglio riuscire a fare un buon uso Che dovremmo dire? Damm... Penso che ho hypothermia Moses ha hypothermia Senza guanti Senza guanti Tu due e i tuoi segreti E come hai mai avuto una conversazione con l'altro È più oltre a me Sono morto di sapere cosa è buona notizia a Sofie Pensavo che Sofie non si chiama Si è stressata? Mentolo Prima di fare qualsiasi Volevo controllare i messaggi e le cose Uh, Joyce Ciao Max, ti ricordi di me? Sono Joyce, la mamma di Chloe E so che passavo un bel po' L'altro giorno quando mi trocevo le polizie ho trovato una foto dolcissima di te Chloe vestita da pirati Volevo mandarti una foto ma non mi ricordo dove l'ho messa Ah, volevo mandarti una foto ma non mi ricordo dove l'ho messa A proposito, i tuoi genitori mi hanno raccontato del premio che hai vinto Sapevamo tutti che ne eri capace Grazie Joyce, è stato bello ricevere un riconoscimento E si sono tenuti in contatto Quindi buon compleanno Max Alla prossima volta che torni a casa ci sarà una bella fette di torta da aspettarti al Two Whales Oggi è l'anniversario, Max, di quando ho perso mia figlia Chloe Mi sento ancora sola senza di lei Ma mi consola sapere che ci sei tu Perché tenevi a Chloe tanto quanto ci tenevo io ed è ancora così Mi dispiace così tanto Joyce Eh, si Mamma e papà Quindi novità sul Max che parte Arcadie Bay che ha ricevuto soldi La mostra a Cleveland Sì, ho Max che non risponde ai messaggi Non ci sentiamo dal giorno del tuo compleanno Proverò a chiamarvi più spesso, l'università è fantastica Ma non ho così tanto tempo libero come credevo Però sto bene Un po' di ball di gola Torno in ballo il discorso di Jefferson, sì Insomma Eh, sì, è una situazione molto strana sicuramente per i genitori di Max Mio Dio, Moses Sto leggendo naturalmente ma non ad altavoce giusto per fare un po' più veloce Pfff 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 Oc Pfff 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 Ok quindi Moses è un nerd confermato anche lui Molto bene Ah reggi il tuo bicchiere Troppe emoji Max è una fan dichiarata del gore Interessante Questa è una fan dichiarata del gore La cosa del nome dei file è una cosa con cui posso davvero trovarmi una cosa molto relatable E' una cosa che faccio anche io Io solo scrivo il nome poi alla fine ok 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 definitivo Ok definitivo finale Ok definitivo finale Ok ok Classico Ouch Come la deludo 4k Ah quindi questo è il servizio fotografico sul luogo abbandonato Ah le 1.30 del mattino Wow Ah le 13.30 ok Ha più senso la cosa E lei è la mamma di Safi se non sbaglio Grazie a tutti perfetto e c'è anche crosstalk che è quindi social media immagino come instagram spari di per un viaggio di riscoperta interiore guarda qui sta parlando di noi max questo è l'open mic reggie commenta sotto al post di questi che sappiamo sappiamo essere un membro insieme a diamond ok bene 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 lukas è il nuovo insegnante inquietante forse non mi fido dei professori che hanno social media mi fa morire da ridere le risposte della madre di safi perché sono letteralmente un classico tipo i parenti che commentano sotto i tuoi post di facebook mi ricordo dieci anni fa succede la stessa cosa anche a me la mia foto guarda come poco c'entrava sembra che possa cadere da un momento all'altro mi piace molto la composizione ma che schifo mamma entro via max quanto sei quanto sei hipster ancora probabilmente della muffa sì mi piace molto 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 molto rossa e rachel questa cosa una collaborazione con un animale domestico cioè vallo a vedere pfff l'hai un'occhiata al numero di gennaio per vedere il resto del servizio fotografico mi fa piacere che victoria sia diventata una fotografa professionale anche lei e inoltre e inoltre significa anche che max e victoria sono amiche sui social media molto interessante molto interessante e quindi e quindi e quindi Sono molto persone che ancora non conosciamo Oh, queste sono le foto che piacciono a me Fai meno foto e studiati più Non sei la mia vera madre Futuri alunni e alunne avete fino alla fine del mese per inviare le vostre candidature alla Caledon Non vediamo l'ora di avervi al campus Ah, Yasmin Non so se è una cosa famosa, cioè se è una cosa comune anche al di fuori del Giappone Ma in Giappone www è kusa È come scrivere lol in italiano La risata, www, kusa, erba Che significa tipo lol nei social media giapponesi Probabilmente l'avrete visto Erba, erba, erba Risata, risata, risata Scusatemi, errore mio, non riesco a cancellarlo Non so ancora usare cross talk molto bene Ok, come non detto Pensavo che Yasmin fosse una weeaboo Un altro successo da quella che ha chiamato il suo dentista su FaceTime Per sbaglio, dieci volte di fila Wow Wow, sentire qualcuno che chiama una 27enne vecchia quando io ne ho compiuto i 29 il 30 ottobre Quindi 4 giorni fa, anzi 5 giorni fa alla data di oggi Non si è vecchio a 27 anni, i ragazzini di oggi sono dei gran maleducati senza rispetto per i più anziani Concordo, maledizione Ah, Gioves è andata in pensione Da quando sono andata in pensione mi sento molto sola Quindi ho deciso di iniziare a prendere in affidamento dei gattini Benvenuti a casa Price, podello, wok, piastra e pentolino Ho fatto i nomi delle pentole praticamente Per dare a trovare sorpresine si parte in giro per casa mentre si abitano a stare alla lettiera Ah, Bongo, il vecchio Bongo Vanessa è la Vanessa Caulfield, la madre di Max Mio Dio, le abbreviazioni Upsi Oh mio Dio, sono erroneamente andato giù Ok, ero arrivato alla fine, quindi mi ricasso Ottimo Scusate per questo piccolo Piccolo sidetracking Possiamo farne una Una un po' più Più carina Ok Eccellente Wow Sei una maga, Safi Hai fatto volare il libro Incredibile Mi domando quanto costi un telescopio di questo tipo Me e Chloe Used to daydream About the adventures we have Under skies like this I love that you're my partner in crime As long as you're my partner in time After everything that happened in Arcadia Bay I'm lucky I found this place I haven't been as happy in years Overmax I wonder if Moses knows how to get Safi to talk I love how Moses always looks so passionate about his work Even when he's just crunching numbers Quando ero arrivato al limite, Max, non potresti spostarti un po' di più? Mettiti in posa, Moses Wow Ah, ok, ecco la scelta delle pose Ok Ok Avrei dovuto zoomare un po' di più Ma ci va bene lo stesso Uomo di scienza Scienza Eh, Moses Doesn't some small party you want to know what Safi's good news is? All right I think I have an idea But once we go down this road We can't turn back Um, ok Give this to Safi If you can You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her Like a prank? No This has rules So it's more of a game Whoever holds the bow cap Has to do whatever you say Well, within reason Well, within reason Moses Stavo per fare una battuta terribile sul Come Safi si vendicherà Per questo gioco In riferimento al fatto che sappiamo cosa succederà più avanti How am I going to plant this on Safi? Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department, I guess Safi eats these when she can't slip away for a smoke It'd be totally normal for me to offer her one And give her a bottle cap instead Now I've just got to deliver this to Safi Hey Hey, Safi Mm-hmm Find anything poem-able? The moon? Kind of Though I'd hardly be the first Carl Sandberg called it A friend for the lonesome to talk to Oh, pretty I haven't seen a moon this bright outside of Oregon Oh A Max biography nugget Those are rare You never really talk about why you came here You already know Your mom threw me a lifeline Pulled me out of freelance hell One of these days I'm going to find out what you're running from, Max Caulfield That's a promise Beh, glielo abbiamo già menzionato un pochino comunque, sì Ok I'll leave you to your muse Pensavo che avesse altro di cui parlare allora a questo punto Hey, Safi Mm-hmm Want a piece of candy? There's a few left Oh Twist my arm Haha Shit It's a conspiracy Come on Max Come on Max Surely you of all people would let a girl have her secrets No, no, non mi piace forzare le persone quando non vogliono condividere qualcosa Quindi con il rischio di perdermi piccole informazioni di lore su Safi preferisco rispettare le sue scelte come persona Ugh, fine But this is your only get-out-of-jail-free card And I'm taking the cat back For next time You rule I'll put back the curtain soon Just need a few more days Promise Oh Oh, shit Hello This is Safi Yes, this is Safiya Lowell and Fayyad Speaking Be right back So So Would you really take pictures of the end of the world? Certo Yeah Think about it I take photos of empty buildings An empty planet? That's next level Okay But it's like Safi said Nobody is ever going to see them Continuo anzi sarebbe sul fatto che Come ne parlai anche nell'altro video L'arte È tale finché c'è qualcuno che la vede Sì Ci sta come linea di pensiero Ma Anch'io come fotografo uno qualcuno Quindi io posso fare arte anche solo per me stesso Senza che nessun altro la veda Non è quello il punto Io le vedo Mi piace la linea di pensiero di Max È un passatempo Non è un passamento È un passamento Non è un passamento Che Sì L'ho anzi Mi diciamo L'ho anzi L'ho anzi È più che Perché A volte Si A volte C'è un passamento Solo E' 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 Lo a E' 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 Il E' Es E E Oh questo è il mio tipo di foto. Questa voglio farla bene però. Come la farei io in... nella vita reale. Grandangolo. Io farei una cosa di questo tipo. Aspettare che passa qualche cometa. E' interessante comunque come il potere di Max si è reattivi ogni volta che qualcuno sta morendo, qualcuno che conosce. E' un collegamento che ho fatto solo adesso. Siamo già alla fine del primo episodio quindi è passato molto, molto velocemente. Mi sta prendendo onestamente, forse anche per quello che sembra che si andava più veloce di quello che pensavo. Sì. 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 Il migliore modo per iniziare la giornata. Sì. stasera avevo una vista meravigliosa anche la peggia di meteo è stata incredibile hai veramente pubblicato questa foto? dovresti dire che sono molto dolce certo che lo sei tesoro ma c'erano delle foto migliori è l'unica foto dove ci sei anche tu ok, allora sei molto dolce voi due mi mancate prendiamo qualcosa da vero più tardi spero che conosceremo questi personaggi più avanti ok, quindi questa è la stessa persona della scrittura autobiografica che stavamo leggendo prima ho ricevuto un avviso dalla mia banca che diceva che sono stati adebitati 200 dollari sulla mia carta credit però questo è lo shopping turtle questo è lo champagne di Sophie siccome Sophie non risponde dal telefono mi stavo chiedendo se l'avevi vista non sono arrabbiata con lei voglio solo capire siamo onesti mi piacerebbe davvero un sacco visitare un posto un posto di questo tipo come detto non sono abituato alla neve quindi è raro che io la veda a parte quando vado tipo magari in aosta o in posti simili molto raramente povero signore pubazzo di neve ora mi conosco chi ha lasciato all that squirre of gore around campus. Non mi fai to take a shot like this every day. Wow. You're really watching me, aren't you? This is not a test. Max! The system of broadcast emergency is now in effect. I caused this. I caused all of this. Mi piacciono davvero molto i Goofy, fra l'altro. Sono animali incredibilmente interessanti. Max? Hey! Hey, hey, are you okay? Something's wrong. Sophie! Hey! Come back! Mi piace molto il fatto che Max abbia fatto letteralmente 2v2 istantaneamente nella sua mente dopo aver visto... dopo aver vissuto per la seconda volta questa esperienza. mi piace che stiano trattando questa cosa in modo realistico. Perché giustamente anch'io se fossi Max e rivivessi un'esperienza di quel tipo per la seconda volta capirei subito che c'è qualcosa che non va con Sophie. Better safe than sorry. dato che la prima volta che ho avuto un'esperienza simile era... era con Chloe, appunto. che bello. Oh... ho avuto un'esperienza di poter un'esperienza di poter in modo realistico. Quindi è come se due realtà si stessero sovrapponendo in un certo senso Perché abbiamo sentito lo sparo da un'altra parte Max! No! Mi piace anche molto questa conzone fra l'altro, Illusion l'ho anche scaricata Grazie a tutti!